Musica Salve a tutti, eccoci finalmente al mio primo video Scusate se ho... ma... beh... Mi sono appassionata ai videogame Ho giocato veramente di tutto Ho avuto il Nintendo, il Super Nintendo, il Nintendo Nintendo Tieno PS1, la PS2, la PS64... Non usarlo... Ok posso andare avanti Dicevo e già da dal in com di a 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 Quindi insomma avete capito Alla prossima Ho avuto un casino di console